Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz, ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Daily, quello che abbiamo visto negli ultimi giorni della settimana scorsa e in particolare ieri è stato sostanzialmente un ritracciamento piuttosto importante e forte di tutte le borse non solo europee ma anche americane, ora la domanda che ci viene da porci è che cosa fare in questo momento, è giusto provare ad acquistare quindi cercare di sfruttare quello che potrebbe essere un rimbalzo dopo uno storno oppure metterci al ribasso, le considerazioni sono molteplici da fare nel senso che la risposta giusta è dipende, dipende qual è l'orizzonte temporale che abbiamo per i nostri investimenti e soprattutto dipende da che cosa abbiamo in portafoglio. Noi avevamo delle operazioni ribassiste che in particolare quella su Unicredit è stata chiusa ieri in chiusura di seduta e di conseguenza il nostro portafoglio in questa fase è orientato prevalentemente verso la gamba rialzista, questo fa sì che se dobbiamo andare a scegliere se operare al rialzo o al ribasso dovremo puntare secondo me per bilanciare il portafoglio su un'operatività di tipo short. Andiamo quindi su uno degli indici che ha sofferto di più e in particolare il Fuzzi Mib, andiamo sul grafico per vedere quella che è la situazione, come potete notare c'è stato questo ritracciamento piuttosto importante, stamattina segnali di ripresa, la nostra operatività sarà molto semplice, andremo a vendere su quest'area che potrebbe essere una resistenza in area 24.490, sono prezzi abbastanza lontani da dove ci troviamo adesso proprio perché il nostro portafoglio in questo momento è orientato al rialzo, metteremo uno stop veramente stretto quindi cercheremo di rischiare poco con questo tipo di operazione per cercare di andare a prendere invece un ritracciamento significativo nel caso appunto la resistenza dovesse far poi scendere nuovamente i prezzi verso nuovi ed ulteriori minimi proprio fino a quest'area veramente importante di supporto posta a 23.600 punti. Vediamo subito con l'ausilio del sito investimenti.bnpparibas.it come andare a fare questo tipo di operazione, clicchiamo su certificati a leva, Turbo Certificate, andiamo nella selezione di prodotti offerta appunto da l'emittente francese selezionando il Fuzzimib compaiono ben 92 prodotti, qui ce n'è per tutte diciamo per tutti quindi c'è la possibilità di scegliere la leva sostanzialmente che si vuole, la scadenza oppure puntare su strumenti open-end quindi senza scadenza, io nello specifico ho scelto un prodotto medio quindi con una leva media e una scadenza posta a fine anno e si tratta dell'NLBNPIT12IG8. Andiamo in piattaforma, al momento la quotazione di questo certificato è di 22 centesimi circa, il prezzo corretto per entrare su questo strumento è di 19 centesimi, andando ad acquistare 5.000 pezzi si andrà a coprire un controvalore di circa 1.000 euro sul certificato e oltre 10.000 euro sul sottostante che è appunto l'indice Fuzzimib. Quindi la nostra operatività è short anche se io mi aspetto un piccolo rimbalzo nella giornata odierna proprio per ribalanciare il portafoglio e cercare di sfruttare appunto quelle che possono essere delle opportunità di ulteriori storni raggiunti determinati livelli. Andiamo quindi infine a ricapitolare quello che è il trade che abbiamo proposto nella giornata di oggi, si tratta appunto di uno short da 24.490 punti di Fuzzimib, lo stop loss andiamo a posizionare a 24.750 punti quindi estremamente vicino al nostro livello di ingresso, il nostro target price invece molto molto largo a 23.600 punti, l'idea è quella appunto di far correre la nostra posizione. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie. 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 Grazie.